www.feyyaz.tv Va bene così, addrizzo. Va bene. Vai, vai, vai. Piano piano, vado a scendere piano piano. Addrizzo ora, Roberto. Vai così. Vai, vai. Verso di me ora. Ok. Verso di me, Roberto, cominciare ad accompagnarlo. Gira verso di... Così, piano piano. Vai. Gira verso di me. Gira, gira. Vai. Vai bene così. No, no, Roberto, verso di qua. Verso di qua. Ripiglia. Ripiglia che stai passando. Basta, basta. Ripiglia. Ripiglia. Ripiglia di nuovo. Basta. Basta. Ripiglia. Ripiglia di nuovo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.